Stefano Bertolina, direttore Galdus Academy. Allora, chiediamo a Stefano di ricordare bene di cosa si tratta, che cos'è Galdus e anche di dare un sito internet. Buongiorno a tutti. Galdus è una realtà che opera da oltre 25 anni nel territorio milanese e lombardo in generale. Si occupa di accompagnare le persone a trovare una propria collocazione nel mondo del lavoro, dai ragazzi che escono alla terza media dove presso di noi imparano un mestiere e poi si inseriscono in azienda, adulti che dopo a volte semplicemente aver terminato il percorso di studi, a volte invece magari dopo varie vicissitudini della propria vita lavorativa si trovano impegnati a dover riprendere, a lavorare, a cercare un lavoro. Quindi presso di noi trovano una risposta, una soluzione, un accompagnamento. Sul nostro sito www.galdus.it si trovano tutte le specifiche dei nostri servizi. Sempre più spesso si sente parlare di formazione, miglioramento delle competenze che ci vogliono, devono essere tanti in questo periodo. Quali leve fondamentali per lo sviluppo delle aziende? Galdus, che ha da dire in proposito? Raccontaci. Galdus ha imparato a dialogare con le aziende proprio proveniente dal suo interesse per la persona. Nasciamo come una realtà che ha passione per l'individuo, per l'uomo e ci siamo trovati a dover dialogare con le aziende che comunque sono fatte da persone e portano dei bisogni cui noi dobbiamo riuscire a dare risposta. Quindi nella nostra attività di accompagnamento all'inserimento lavorativo si è presto trasformata anche in attività di supporto diretto alle aziende che manifestano sempre più problematiche o comunque bisogni dal punto di vista della formazione continua. Il cosiddetto long life learning, la possibilità e la necessità per tutti i dipendenti, per tutti i collaboratori di continuare a essere inseriti in un percorso di apprendimento che possa portarli a migliorare, a raccogliere le sfide, la competitività che è veramente stringente in questi tempi. Certo. Senti, tra i problemi che molte aziende devono affrontare c'è proprio quello poi dell'inserimento delle categorie protette, anche questo è un argomento che mi interessa molto. Quali soluzioni in grado di offrire Galdus? L'inserimento delle categorie protette è, grazie a Cero, tornata di moda nel senso che la sensibilità si è risvegliata rispetto a un po' di tempo fa. Sempre più aziende si mettono nell'ottica di davvero pensare di inserire delle persone con degli svantaggi. Sicuramente l'inasprimento delle sanzioni ha contribuito tanto a sollecitare questa sensibilità, però la cosa che ci interessa proporre alle aziende è un ragionamento, un accompagnamento al clima organizzativo, a come riuscire a inserire una persona svantaggiata non solo per assolvere un obbligo, ma andando a mettere in mano un'organizzazione che con l'inserimento di una persona in più può davvero migliorare. Il presupposto da cui partiamo è che una persona cosiddetta disabile è perché ha normalmente una disabilità, ma questa persona per vivere ha sviluppato delle abilità che superano di gran lunga quelle delle altre persone. Sono d'accordo. All'interno di un'azienda, grazie appunto a un'analisi organizzativa, a capire i ruoli, le mansioni, inserire una persona disabile può essere a volte estremamente vantaggioso. Poi è chiaro che bisogna trovare la persona giusta da inserire nel posto giusto, ma per questo è un lavoro che facciamo spesso in rete, con altre realtà, dove si riescono appunto a raccogliere i profili giusti da proporre alle aziende che vogliono fare questo tipo di percorso. Va bene, allora questa è una cosa importante, ci tenevo a chiedertela. Ricordate il sito, poi ci salutiamo e insomma Galdus sta facendo un ottimo lavoro per il mondo del lavoro, anche mi viene da dire. Grazie, noi facciamo del nostro meglio www.galdus.it